Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, andiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, situazione estremamente critica a causa del traffico intenso in A1 code a tratti tra Firenze in Pionete e in Cesareggello in direzione Roma, in A11 invece code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, in Fipilì si segnalano nell'ordine code, code in uscita alla Strassigna, a Scandicci, a Santa Croce, a San Miniato provenendo da Firenze, viabilità di Firenze, possibili disagi causa incidenti in via Faentina all'incrocio con via Fusinato, chiediamo con i cantieri della città di Firenze domani 23 dicembre in orario 8-18 Borgo Santa Croce rimarrà chiuso a causa di lavori con piattaforma aerea e per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio! Grazie a tutti!